Buonasera a tutti, benvenuti in questa giornata dedicata alla formazione. Noi siamo onorati, questa mattina l'abbiamo presentata ufficialmente, una collaborazione importantissima per la SGI Form, quella di Alessandra Barlam che quest'oggi ci darà un assaggio di quello che sarà poi il percorso che faremo insieme in quest'anno accademico 2017-18. Io immagino che tanti di voi già la conosciate, forse è anche un po' superflua la mia presentazione, però è necessaria perché averla qui è veramente un onore per noi. Quindi è giusto insomma introdurla anche perché è il primo appuntamento. Il suo curriculum, l'ho già detto e ripetuto, è infinito, quindi io mi avvalgo un po' del foglio per ricordare tutte le tue importanti collaborazioni. Makeup Artist di fama nazionale e internazionale davvero ha ricoperto diversi ruoli nell'ambito dello spettacolo. Visagista Gilcagné, pensate per successivamente, insomma, ha diretto sia la scuola Gilcagné ma è stata proprio ambasciatrice della bellezza nelle grandi capitali. Ha scritto numerosissimi articoli di estetica e di maquillage sui più importanti giornali del settore e sulle più diffuse riviste femminili per le quali collabora tuttora. Tantissime le rubriche, gli interventi televisivi alle quali ha partecipato, ovviamente i suoi interventi erano inerenti sia al tema dell'estetica, del trucco, della bellezza, dando consigli di come migliorare la propria immagine. La sua professione l'ha portata a lavorare con le più famose modelle, quindi nell'ambito della moda, con i più importanti stilisti, curando i backstage di numerose sfilate di alta moda, ma non solo, ha partecipato e curato l'immagine di tantissimi del mondo dello spettacolo, tantissimi cantanti riconosciuti a livello mondiale e ovviamente tantissime sono anche le sue partecipazioni in tutti i settori, quindi dalla moda, servizi fotografici, spettacoli, video, concerti e ovviamente si è specializzata, la sua soprattutto specializzazione è nel settore degli effetti speciali, ottenendo dei riconoscimenti soprattutto nella body art con e senza areografo, negli invecchiamenti, nelle ferite, nelle somiglianze, lavorando al fianco appunto di attori comici, imitatori, insomma veramente devo dire che chi più ne ha più ne metta, non voglio aggiungere altro però per farvi trasmettere e trasferire anche l'importanza insomma dal punto di vista proprio di bagaglio, di esperienza che sicuramente nel corso dell'anno accademico 2017-18 trasferirà a tutti gli allievi della SGE Form. In questo pomeriggio abbiamo anche ragazzi e professionisti che non fanno parte della scuola e dell'accademia SGE ma che vengono da realtà professionali di tutta la campagna, quindi anche della città non so di Ponte Cagnano, di Battivaglia, Eboli, Agropoli, Vallo della Lucania, quindi un benvenuto a tutti voi, io passo la parola ad Alessandra che sicuramente insomma avrà voglia di conoscervi un po' meglio e anche di illustrare quello che sarà il corso che si terrà oggi pomeriggio. Quindi benvenuta Alessandra nella realtà SGE. Grazie. Grazie. Allora, inizierò con un piccolo, una introduzione che durerà circa un quarto d'ora così per poi iniziare a fare un trucco. Allora, nella prima parte parlerò di quello che è il potere del trucco, ossia attraverso il trucco che cosa noi riusciamo a fare, quali sono le potenzialità che si hanno quando si conosce bene questa professione. I campi di applicazione del make-up perché spesso le persone hanno un po', fino a quando non si entra all'interno di questo lavoro, si ha un'idea un po' vaga di quello che può essere e magari si immagina che il trucco sia soltanto mettere un po' di ombretti e un po' di rossetti. Ma non è così, perché il mondo del trucco è un mondo molto vasto ed è un mondo che opera proprio a largo raggio nel settore della bellezza. Quindi vi farò vedere quali e quanti lavori si possono fare apprendendo le tecniche di applicazione del make-up, dove si può andare, verso che direzione si può andare, perché normalmente ogni make-up artist ha un suo settore preferito. ok? Quindi c'è chi lavora di più nel cinema, chi in televisione, chi nello spettacolo, chi nella moda, chi ama fare le spose, ognuno sceglie poi la sua direzione. Ovviamente per l'estetista è nelle sue corde fare bene il mondo del trucco da sposa, ok? Quindi è la specializzazione massima, ma ha a che fare anche con tutto quello che è il mondo della moda, perché spesso anche avendo un salone di estetica si può partecipare ad eventi di moda e di spettacolo magari nei luoghi, se ci sono delle sfilate, degli eventi di spettacolo nell'estate oppure durante l'inverno, nei teatri, via di seguito. Ovviamente nulla si può improvvisare, ok? L'improvvisazione, dico sempre, è frutto di una grande preparazione, lo dicevo anche questa mattina, oggi il mondo della bellezza, il mondo del benessere, della cosmetica ha bisogno di professionisti di alto livello, ok? E si ha soltanto attraverso la formazione, nulla può sostituire questo. Andremo a vedere adesso quali sono i campi di applicazione del trucco. Allora, incominciamo a vedere una delle tecniche, non so se ne avete mai sentito parlare del camouflage, è una tecnica, per chi non lo sa, mi sposto se no fa rumore il microfono. Allora, il camouflage è una tecnica che serve a eliminare ogni difetto del sia cromatico che di spessore del viso laddove ci siano delle patologie. Che cosa vuol dire? Per esempio, se io ho degli anestetismi gravi, non posso correggerli utilizzando il normale trucco, ok? Ma devo utilizzare dei prodotti specifici. Perché io ne parlo sempre? È una specializzazione questa, non esiste nel trucco base, correttivo, questo tipo di intervento. bisogna imparare queste tecniche particolari. Allora, nel camouflage, in pratica, noi abbiamo la possibilità di correggere degli anestetismi, per esempio, come la vitiligine, ok? E quindi andare a correggere queste gravi. Allora, io perché lo faccio vedere sempre? Per spiegarvi come anche questo è trucco. Cioè, non è che parliamo di effetti speciali, questo è trucco, ma è un trucco specifico, particolare. La tecnica del camouflage, pensate, che viene fuori all'incirca dopo la seconda guerra mondiale. Quando in Inghilterra, in pratica, c'erano alcuni campi ospedalieri che tenevano all'interno dei ragazzi ricoverati che avevano avuto delle gravi ustioni sul viso, oppure dei problemi dovuti a esplosioni, cose che avevano deturpato il viso. Molti di questi non volevano più tornare a casa. Non funziona più, sì. Allora, questo gruppo di medici contattò un gruppo di truccatori americani che lavoravano anche negli effetti speciali per riuscire a mettere insieme dei prodotti che potessero correggere questi gravi inestetismi, come magari erano delle ustioni, dove se voi provate su un ustione ad attaccare qualsiasi tipo di prodotto vedrete che non aderirà, ok? Allora iniziarono a formulare delle particolari prodotti e plastiline per cui si riuscì ad ottenere dei risultati di maggiore adesione sulla pelle, ma soprattutto attraverso le regole della colorimetria di cui abbiamo parlato anche questa mattina, noi riusciamo a correggere tantissimi inestetismi a livello di colore. Che vuol dire? Che non basta soltanto sovrapporre, questo vi faccio questo cappello solo per farvi capire di che cosa si tratta? Non basta sovrapporre solo un prodotto per riuscire a correggere questo inestetismo, ma devo conoscere la scala dei colori, i cosiddetti colori complementari, di cui penso voi ne avrete sentito tutti parlare, sia che acconciatore che l'estetista, per riuscire a correggere gli inestetismi. Un esempio nel trucco correttivo è il verde, il correttore verde perché si usa per correggere il rosso e in pratica i due colori sovrapposti si annullano. Poi noi nel trucco utilizziamo molto anche il giallo, i correttori leggermente gialli, i cosiddetti banana, che servono a correggere i colori violacei. Quindi per esempio anche io durante una sfilata se ho una modella che ha un livido nella fase viola posso mettere tutti i correttori che voglio ma non riuscirò mai a correggerlo fino a quando non userò un correttore giallo. La stessa cosa vale per le occhiaie che sono considerate blu come si correggono con i correttori arancioni perché l'arancione è complementare del blu, va bene? Quindi sovrapposti si oppongono. Per correggere tutti questi tipi di inestetismi dobbiamo in pratica utilizzare la teoria dei colori. Uno può essere la vitiligine, l'altro possono essere gli angiomi. Quando gli angiomi sono così gravi, quindi che prendono tutto il viso, è ovvio lo dovete correggere con dei correttori specifici, con i cosiddetti camouflage, utilizzando il verde. L'applicazione di questi prodotti si fa attraverso una particolare tecnica che viene detta backing, che voi magari chi smanetta in rete ha sentito adesso molto parlare di questo backing, che è una tecnica che è sempre stata utilizzata in teatro. In pratica in ogni fase applichi la cipria che fissa il prodotto. Per esempio metto un correttore e poi la cipria, sopra il fondotinta e poi la cipria, riapplico il correttore e poi la cipria. Quindi si crea tanti spessori, si crea uno spessore molto elevato, in quel caso la tecnica è detta proprio del backing, come se fosse una cottura ad ogni strato cuocio, ritiro fuori, metto, ricuocio. Capito? Un po' il senso è questo. Il camouflage viene applicato in questo modo. Si mette il correttore che corregge l'inestetismo, poi si applica una cipria che fissa il correttore, sopra si mette un fondotinta che uniforma completamente tutto il colorito, si riapplica una cipria sopra, poi si riapplica sopra un correttore per poi finire con un fissante. Ok? Ovviamente uno dice ma sì, poi lo strato è alto, sì, ma è meglio quello strato che questo inestetismo. Quindi comunque parliamo di effetti, parliamo di risultati e patologie estreme. Ok? Altra tipo di patologia potrebbe essere, non so questa si è un po' scura, le macchie, le macchie scure. Ci sono dei livelli di macchie che non si correggono con i correttori normali. O l'acne, quando l'acne è deturpante. Questa per esempio è una famosa pubblicità, la conoscete? Dove questo ragazzo, completamente tatuato, attraverso l'applicazione del camouflage, quindi questa tecnica particolare, riesce a coprire totalmente, perché lui al naturale è così, a coprire totalmente i tatuaggi. Ok? Adesso per esempio nella moda, nelle sfilate, noi usiamo tantissimo i camouflage, è ritornato molto, no? Perché? Per coprire i tatuaggi. Molti stilisti non li vogliono vedere. Magari hanno, adesso io ho fatto le sfilate a Parigi a Settembre e tantissime ragazze ora hanno i tatuaggi e i vestiti scollati, tenevano, capito? Soprattutto sulle braccia e la schiena dovevamo coprire tutti i tatuaggi, perché gli stilisti non li volevano vedere. Ok? Quindi attraverso l'uso del camouflage. Altro settore di applicazione del trucco è il trucco, il cosiddetto trucco beauty, ossia il trucco di abbellimento. Ok? Perché non sempre il trucco abbellisce. Nel cinema non è mai previsto questo, nel senso che nel cinema sapete che facciamo? Riproduciamo la realtà. Noi quando studiamo i copioni, in genere nei copioni c'è sempre scritto in quel momento l'attore in che momento della giornata è. Tu devi girare la scena 3 di questa... Lì c'è scritto in che momento della giornata. Magari ti dicono che si è appena alzato dal letto. Tu che cosa devi fare? Riprodurre esattamente cosa succede quando una persona si alza dal letto. Potrà essere mai truccata? Sì, solo se è una che si è andata a dormire con tutto il trucco. Però deve essere scritto che lei non si era struccata. Altrimenti riproduce esattamente ciò che avviene in quell'ora. Ok? Oppure se va a una festa. Cioè noi facciamo altro che simulare una realtà in un determinato momento della giornata. Che sia all'aperto, che sia al chiuso. È sempre specificato tutto all'interno della scena. A volte non riproduciamo la bellezza, ma a volte possiamo riprodurre anche un effetto. Può darsi anche una bruttezza. Nel senso che magari dobbiamo vedere una determinata persona che sta studando, sta facendo un'attività sportiva. Cioè riproduciamo e quindi non ci è richiesto di abbellirla. Anzi, può darsi che dobbiamo far vedere una ragazza o una persona che sta male, che ha la febbre, via di seguito. Quindi imbruttiamo addirittura. Il cinema è simulazione della realtà, di una realtà inventata. Invece il trucco cosiddetto beauty per beauty si intende tutto quel trucco che invece ha come scopo l'abbellimento. In inglese beauty vuol dire proprio bellezza. Quindi che va proprio ad abbellire. Abbellire vuol dire nascondere i difetti ed esaltare i pregi. Vuol dire osservare bene la persona che abbiamo davanti. Quindi le prime cose sono sicuramente dobbiamo correggere le occhiaie, brufoli, le macchie della pelle. Posso fare il trucco più bello del mondo. Poi non sono riuscita a correggere le occhiaie. Per me è un trucco inutile. Posso fare un trucco bellissimo ad una donna un po' agé. E quindi la peggioro perché magari non sono stata capace di fare una bella base. Invece di migliorarla l'ho invecchiata. Sapete quando vengono tutte le grinze sotto gli occhi. Quindi ho sbagliato tutto. Sarà un trucco bellissimo dell'occhio. Le andrà a casa e si toglierà tutto. Perché si vedrà più vecchia. E quindi ricordatevi sempre che la bellezza è molto legata anche a un senso di ringiovanimento. Se io trucco e poi imbruttisco invecchio è stato un trucco assolutamente inutile. Quindi nel trucco beauty abbiamo il correttivo. Abbiamo il trucco da giorno, da sera. Il trucco da sposa è un trucco beauty perché è un trucco che va ad abbellire sempre. Poi può essere un trucco leggero, un trucco più intenso come volete, ma come scopo sempre quello di abbellimento. Il trucco da cerimonia, un altro trucco beauty, il trucco di ringiovanimento e imparare a truccarsi per abbellirsi. Il cosiddetto self beauty. Anche il self beauty per un estetista è molto importante saperlo fare. Ossia sapere insegnare alle proprie clienti a truccarsi. Molte stanno imparando questo. Poi magari è una cosa che la prossima volta quando ci rincontreremo, se vi interessa e decidiamo insieme di fare questo corso, vi insegnerò come si fa di insegnare alle clienti a truccarsi da sole. Perché ci sono delle tecniche particolari, un metodo particolare. E anche questo ha come scopo l'abbellimento. Dobbiamo sempre pensare che il trucco è un mezzo attraverso il quale si mostra agli altri la propria identità. Qui viene proprio l'aspetto psicologico del trucco. Nulla è mai casuale quando una donna si mette davanti ad uno specchio. Noi lo dobbiamo conoscere perché poi, dovendo truccare gli altri, dobbiamo essere in grado di capire ciò che una donna vuole. Ciò che una donna vuole essere. Ciò che una donna è per evitare di fare maschere. Il trucco, quando è nella vita normale, non è mai maschera. Il trucco è maschera solo nello spettacolo. Nella vita non lo è. Anzi, è un modo di tirare fuori proprio se stessi. Ok? Quindi deve corrispondere esattamente alla persona. Allora, vediamo. Ecco, qui vi ho messo un po' di prima e dopo famosi che potete vedere pure in rete, no? Perché poi il linguaggio anche della rete è molto importante. Ovviamente tanti di questi sono trucchi che vanno proprio a trasformare le persone. Speso, nella vita normale, questi sono degli errori per un truccatore. Perché se prendete una persona e la trasformate, che non si riconosce, puoi fare pure un trucco bellissimo, ma rappresenta un errore. Perché l'hai mascherata. Ok? Abbellire non vuol dire mai mascherare. Capito? Se prendete... Se fate questi tipi di trasformazioni, per esempio quando ho truccato una sposa, spesso si rischia di mascherare la gente. Ok? Perché se io prendo una persona, il potere del trucco è questo. Ti cambio il colore della pelle, l'inclinazione dell'occhio, la forma delle sopracciglia, ti cambio la forma della bocca, ti cambio tutto con i chiaroscuri, ti faccio un altro contorno del viso, in pratica ti ho trasformata. Ok? E quindi tu, quando ti vedrai, sarai bellissima, ma non sei te. Ok? Noi nello spettacolo lo facciamo a volte, noi col trucco, lo può pure dire Gianluca, io a volte nelle sale trucco ho difficoltà, mi abito talmente all'immagine della persona, quella che viene fuori, che quando la vedo senza trucco non la riconosco più. Perché il trucco, anche quando apparentemente sembra naturale, non lo è mai. E vuole essere naturale. A volte c'è il nude look che veramente ti trasforma, facendoti, dandoti l'illusione che il trucco sia naturale. Capito? Quindi tante volte, quando io porto i ragazzi pure dietro le quinte dello spettacolo e loro vedono quella persona realmente così com'è, e poi la vedono in telecamera e si mettono paura, dicono no, non è possibile che lei, o la vedi prima del trucco. Capito? Perché è proprio, vuole simulare questo. Ok, questo qui è un'immagine che in pratica vi vuole fare, è sempre un trucco molto naturale da giorno, questo trucco beauty giorno. Questo è un trucco da sera, vedete, va a coprire tutto, ma non trasforma il viso. Questi possono essere trucchi da sposa, trucco da sposa, che è sempre un altro trucco beauty, come avevamo detto. Il trucco da cerimonia. Il trucco naturale di ringiovanimento. Ad un'età, vedete, qui abbiamo questa persona a quasi 80 anni, ok? Quindi trasformata, non è trasformata, vedete? Qui è un mantenere quelle che sono le caratteristiche della persona senza trasformare il viso. Ok? Perché poi a quest'età più la trasformi più diventa un fenomeno da baraccone, no? Cioè noi diciamo così come per dire, cioè la rendi inadeguata, no? Ovunque va, dicono tutti, sì, sarai bella, ma tipo Moir Orfei, no? Quel tipo lì di che non va bene. Ok, questo è il trucco, il self-make-up, essere davanti allo specchio. Comunque, per dirvi che la ricerca della bellezza un po' accomuna un po' tutti, no? Perché è un desiderio che abbiamo tutti. L'essere belli poi non è che vuol dire l'essere perfetti, perché ormai abbiamo imparato che si va oltre. E' proprio l'emanazione della bellezza, che è un'altra cosa. E' fatta di stile, è fatta di personalità, è fatta di attenzione nei confronti della nostra estetica. Non c'è bisogno di essere perfetti. Ok? Non ha niente a che fare la bellezza con la perfezione. Ok? È vero che quando una cosa è perfetta è bella, quella è innegabile, perché è la bellezza classica, che si rifà i miti, così. Ma questo è così ovvio e scontato, non è che c'è da ragionare tanto. E io dico sempre che il bello ha ricaduta sulla società, sulla qualità della vita e sulla percezione della felicità. Che cosa vuol dire? Che quando una persona, tu la trucchi e quindi l'hai abbellita, gli hai migliorati i difetti, è c'è un'emanazione di felicità. Ci avete mai fatto caso? C'è l'emanazione della felicità, dello star bene. Avete mai visto quando voi vi siete truccate, pettinate, vestite bene? Come vi relazionate con gli altri? Cambia qualcosa dentro di noi, no? E quindi è proprio, si ripercuote nei confronti di tutti. Quando tu ti senti a disagio con quel trucco, ti hanno fatto un taglio di capelli sbagliati, un colore sbagliato, che succede? Che tu intimamente ti senti a disagio e il tuo malessere lo butti addosso a tutti gli altri, no? Magari ti arrabbi, fa un macello, torni a casa, butti tutto sotto sopra, perché non ti senti a tuo agio. Altro campo di applicazione del trucco è il fashion, moda. Sono poi tutti i corsi di specializzazione che andremo a fare. Fashion, moda, in pratica, il trucco che cos'è? Nel fashion e nella moda, il trucco pure può essere abbellimento, ma anche no. Perché ha a che fare con l'interpretazione dell'ispirazione della sfilata. Che cosa vuol dire? Ogni stilista per fare una sfilata si ispira a qualcosa. Per esempio, noi dopo andremo a vedere un trucco ispirato agli anni 20 e anni 40. Quindi che cosa si va a fare? Io devo innanzitutto sapere com'era il trucco negli anni 20 e negli anni 40, perché se non lo so come lo interpreto. Allora sapevo che negli anni 20 il trucco prevedeva l'occhio cosiddetto bistrato di nero, l'occhio tutto nero, il cosiddetto smokey eyes. Poteva essere nero oppure poteva essere nei colori bordeaux o marroni scuro. Le bocche erano rimpiccolite ed erano anche di colori molto scuri. Io partendo da quest'assunto inizio a ragionare, quindi a dire, se lo faccio identico il trucco si chiama storico. Cioè in pratica io rifaccio un trucco identico per storicizzare. Che ne so, faccio una cosa d'epoca, uno spettacolo d'epoca, faccio un film d'epoca, oppure un servizio fotografico proprio dove mi chiedono esattamente quel trucco. Anni 20. Oppure lo devo, nella moda si dice, rivisitare. Ossia studiare quell'epoca per poi renderla attuale. Rivisitare, attualizzare. Noi quindi studiamo quella epoca, che la dovremmo sempre già sapere, per poi riattualizzarla e quindi renderla moderna. Avete visto le sfilate? Quest'anno per esempio vanno molto gli anni 80. Ok? Quindi tutto il pop degli anni 80. Allora sono ritornati i capelli ricci. Ok? Avete visto, no? Capello riccio, un po' afro, le testone quelle così. Poi è ritornato l'ombretto molto illuminato. È vero che vanno pure tutte le tonalità, quelle matte, ma va anche l'extra shiny. Cioè, quelle, proprio le tonalità, quelle ultra brillanti. Quindi ci sono questi due contrapposti. E allora noi, per rendere attuale, io dico, allora mi ispirerò al trucco degli anni 20 e magari lo faccio con un unico elemento, non con tutti, perché se lo faccio con tutti ho una cosa storicizzata. Se lo faccio con uno, rimoderno tutto. Dopo vedremo come lo interpreto io. Ok? E questo non è altro che la moda. Qui, per esempio, sono in un set, in un backstage di sfilate per la sfilata di Jean-Paul Gaultier. ed era ispirata, ed è quella la prima, ispirata alla dolce vita degli anni 60. Ok? Ecco. Quella, per esempio, la seconda, è una sfilata ispirata alle gesce. Lo vedete? La seconda. Quest'altra, invece, era una sfilata ispirata agli anni 50. Bocca rossa, eyeliner, basta. E questo è un nude look. Quindi, come spesso, molto nella moda si usa anche fare questo, moda essenziale. Questi sono altri cosiddetti redazionali. In pratica si lavora, qui ho lavorato su alcuni concetti, molto di moda. Qui, vedete, tutto naturale, erano gli anni, un po' ispirata agli anni 60. Una rivisitazione tra gli anni 60 e 70. Questa. Ok? Quindi, eyeliner grafico, bocca completamente nude. Ok? L'altra, invece, era una sfil... Scusate, un servizio fotografico glamour chic. Era chiamato così. Quindi, vedete, questa modella, sono evidenziati gli occhi, ma niente di... Questi qui, per esempio, questo è proprio anni 60. Vedete la sfumatura cosiddetta banana? Vedete? Però, ovviamente, è riattualizzata. Negli anni 60 andava di moda questo tipo di sfumatura molto grafica, così, che in pratica ridisegnava la palpebra... scusate, la piega palpebrale, eyeliner grafico, all'interno si metteva la matita bianca. Ok? Poi, alla fine, poteva essere chiuso il sopra e sotto, oppure lasciati aperti e si metteva del bianco anche in mezzo che separava. Era una moda proprio di quegli anni. Ovviamente tutto ciò è reso molto più moderno, no? Vedete? Mi sono rifatta a quell'epoca, però la bocca l'ho tutta lucidata. Ok? Quindi, è una cosa proprio che all'epoca non si faceva per niente. Poi ho reso grafica quella sfumatura, che invece prima era molto alta, no? Questa sfumatura qui, io ho fatto una sola linea per attualizzarla. Tanto che lì l'ho fatta ancora di più. Anche quella è ispirata stranamente a un incrocio tra gli anni 50, quella, però proprio in chiave ultramoderna. Il trucco anni 50 era il trucco di Marilyn, dove si metteva la bocca rossa, ok? Ed era bocca rossa e lucida e si faceva eyeliner grafico, vedete? E poi si usava la banana, ok? Però era una banana di colore neutro. Se voi vedete le foto di Marilyn, vedrete che ha un colore neutro. Io come l'ho riattualizzata facendo dei segni invece della banana e poi ho usato l'eyeliner anche a puntino sotto, no? Che è una cosa molto più moderna, più millennials alle generazioni vostre, no? Per mettere l'eyeliner in un modo più giocoso, ok? Poi altro campo di applicazione è lo spettacolo. Ma per spettacolo in pratica è un mondo. Perché che vuol dire? Nello spettacolo c'è il cinema, la fiction, il teatro, l'opera, la televisione, i balletti, i musicali, i concerti, i videoclip. Tutto si chiama spettacolo, ma ognuno di questo settore è completamente diverso dall'altro. Sia per tecnica di applicazione che per prodotti utilizzati. Ricordatevi che noi, quando trucchiamo nei vari settori, usiamo sempre prodotti diversi. Non abbiamo mai un beauty con gli stessi trucchi. Se faccio televisione uso dei fondotinta, se faccio moda uso altri, se faccio cinema uso proprio tutt'altro. Quindi a seconda di quello che io devo fare dovrò usare prodotti, colori e tecniche diverse. Anche tecniche di applicazione diverse. Come vedete io vi faccio questo cappello per farvi capire che il trucco è un mondo. E andiamo a vedere, per esempio questo, vi ho messo due immagini tratte dal film Sized Squad. L'avete visto? Ha vinto l'Oscar per il trucco quest'anno, nel 2017. Due truccatori italiani. Questo per farvi capire come il trucco è considerato un elemento fondamentale ed artistico nel settore dello spettacolo. Non è una cosa così che metti l'ombrettino. E considerate che questi non sono effetti speciali. Gli effetti speciali protesi, quelle cose. Questo è trucco. Quindi, come vedete, ha dei riconoscimenti anche importanti. L'Oscar lo prende il trucco come lo prende la regia e come lo prendono io. Perché è molto considerato. E vi devo dire che sia nel teatro, che in televisione, che al cinema, il trucco ha un valore molto alto e riconosciuto. Tanto che noi, quando lavoriamo nel mondo di questo tipo di spettacolo, se ci fate caso, vedete una trasmissione che sono le cose che avete accesso facile. Quando finiscono le trasmissioni avete sentito che dicono sempre grazie al truccatore, grazie al parrucchiere. Perché? In teatro noi siamo proprio venerati. Perché dalle nostre mani dipende il risultato. Avete capito? E viene riconosciuto questo. Al pari di quello che può fare uno scenografo, di quello che può fare un cameraman, perché il nostro contributo è rilevante. Ok? Perché se io sbaglio, io ho fatto adesso uno spettacolo teatrale, ispirato al Vecchio e il Mare, con questo attore. Allora lui era... Cioè io l'ho aiutato tantissimo ad entrare nella scena, perché... Scusate che soffro un po' di asma. Perché in pratica io lo dovevo. Lui faceva nel Vecchio e il Mare Hemingway. Non so se chi di voi ha mai letto questo romanzo. Eccola. Aspetta, devo bere un attimo perché ho questi giorni un po' di asma. A me l'asma mi dà la tosse. A posto, grazie. Allora, l'ho aiutato tanto. E lui mi ha ringraziato tantissimo perché io, attraverso l'invecchiamento, si vede questo vecchio che sta su una barca, non so chi lo conosce, però insomma combatte con questo pesce. Tutto è un monologo dove c'è solo questo attore in scena. che combatte tutto il film con un pesce. Ok? E quindi si vede lui distrutto, che tira la corda, le cose. Quindi invecchiato, pieno di sangue, di cose così, ed è entrato immediatamente nella parte. Quindi il ruolo del truccatore è fondamentale. In alcuni casi. Se voi prendete l'opera, noi truccatori anche nell'opera abbiamo un ruolo fondamentale. Immaginate un cantante lirico che va senza trucco. Tipo la Tosca, oppure la Ida, che è ispirato tutto all'antico Egitto, e uno va senza trucco, con quei vestiti pazzeschi che usano loro. Quindi trucco e parrucco è importantissimo. Ecco la Ida. Questi sono vari momenti dello spettacolo, con vari artisti, così ho messo qualche foto. Questo pure era un altro spettacolo, era un balletto, con tutte maschere che venivano dipinte sul viso, mascherine. Invece di essere applicate, l'avevo disegnate, capito, sul viso. Era un balletto. Questo, per esempio, è uno spettacolo a quale ho lavorato, non so se l'avete mai visto, un musical, si chiama Cats. Ispirato tutto ai gatti, no? Io ho lavorato anche in questo, e ovviamente qui c'era tutta la parte, quella del cosiddetto body painting, no? Non era proprio un vero e proprio body painting, perché ovviamente questi attori usano delle tutine, dove sopra c'è tutta la sagoma del gatto, no? Però sul viso viene fatto sempre, ogni sera, ogni spettacolo, viene fatto sempre il disegno, la parrucca e poi il viso, ok? Tanti musical hanno questo apporto forte del trucco. Poi, qui per esempio, con altre cose, un altro settore di applicazione del make-up è tutto quello che riguarda la musica. Noi abbiamo a che fare tanto, io ho fatto un miliardo di videoclip musicali, iniziando da questi basic, uno dice, ma che gli fai a un uomo? Gli fai un sacco di cose, perché, per esempio, in questo caso, io l'ho seguito a lui, l'ho seguito per almeno tre anni, gli facevo la barba, cioè gli tingevo la barba ed i capelli, perché lui da quando aveva tipo 25 anni era diventato tutto bianco, i capelli, così. Quindi il periodo che lui aveva la barba, lo seguivo io, gli facevo la barba, i capelli, e in più lo truccavo per levare, perché intorno agli occhi, così, ha tutte le occhiaie molto forti, oppure un po' di cuperosi in giro, quindi lo coprivo sempre. Questo è l'altro che vi ho raccontato oggi, le scene che ho raccontato oggi, un videoclip, insomma, non messi due o tre così, giusto per... Questo, per esempio, è il cosiddetto face painting. Faremo anche un corso qua di face painting. In pratica la pittura del viso. Questo, vabbè, ispirato ad una ghescia, ma poi ci sono tanti, si possono fare le maschere, quelle che si vedono, così, quindi impariamo la tecnica della colorazione attraverso gli acquacolor, i supracolor. E si possono fare tantissime cose. Questo è sempre il trucco beauty, e direi che forse... Ecco, questa qui era la parte di cui vi parlavo prima, dei correttori che noi utilizziamo normalmente per il trucco. Vedete, quando vedete il verde, abbiamo detto correggere i rossi, il viola, viene per correggere i gialli, in genere si usa anche per illuminare. Tantissime scale di colore e dei correttori prevedono, non so se la vedete lì, se c'è no uno ve lo faccio vedere. Vediamo, eccolo. Per esempio, qui abbiamo varie scale di correttori, no? Vedete? Vedete che c'è anche questo violaceo? Quindi abbiamo il viola, il verde, gli aranciati, ok? Il giallo, diciamo, questo è un aranciato e poi il giallo. Questi sono normalmente quelli che si usano più di tutti. In più abbiamo il bianco che userò adesso su delay e che serve per illuminare tutta la zona sotto l'occhio. Altri dieci minuti e poi inizio il trucco. Quindi quell'effetto che spesso noi vediamo sotto gli occhi, dove li vediamo molto illuminati, è proprio dovuto a quello. Non vi faccio vedere tutto questo. Questo è il cosiddetto contouring che adesso lo vedremo, fatto. in pratica non è altro che una tecnica di chiaro-oscuro per rimodellare il viso. Può essere correttivo oppure solo per esaltare. Questa è la cosiddetta tecnica dello strobing. Sapete che cos'è lo strobing? No, molti lo sanno, altri no. Lo dico veloce. Il contouring non è altro che il chiaro-oscuro. Rimodellare i contorni del viso. Utilizzando una teoria che viene dal mondo artistico dei ritratti, per cui uso il chiaro per ingrandire, per dare volume. Uso lo scuro per rimpiccolire e dare profondità. Quindi, se devo correggere un difetto, rimpiccolire una cosa, uso lo scuro. Lati del naso. Vedete? Lati del naso. Se devo enfatizzare delle superfici, uso il chiaro. Lo strobing non fa altro che enfatizzare solo i punti luce. E normalmente i punti luce sono in questa zona, sul dorso del naso, punto luce all'interno dell'occhio, punto luce sotto la sopracciglia, punto luce zigomatico, punto luce sul arco di cupido e punto luce sul mento. Queste sono le zone che vengono enfatizzate dallo strobing. Ok? Queste sono alcuni trucchi smokey eyes fatti in modo diverso. Magari quello l'ho fatto un po' più tondo. Questo tutto allungato, l'occhio, vedete così. Questo con un punto luce al centro. Perché anche lo smokey eyes, vedete, qui c'è il punto luce, lì è fatto solo attraverso dei brillantini, qui anche. Una cosa che va tanto adesso, per dare maggiore luminosità e non fare proprio troppo piatto l'occhio, usando lo scuro, è quello di marcare al centro con un leggero punto luce illuminante. Questi sempre sono altri smokey eyes, però possono essere anche colorati. Diciamo che la forma è quella di fare lo stesso identico colore, lo smokey eyes è questo. stesso identico colore su tutta la palpebra. Quello è lo smokey eyes è nero e questo qui è il blu, il verde, il bordeaux. Ok? Posso scegliere di fare quello che voglio. Grazie. È andata veloce, 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 veloce per riuscire a fare un po' il trucco. Ok, quindi adesso vedremo un po', questa qui è una frase famosa che è stata trovata un geroglifico egizio. voi che avete a che fare molto con l'antica Roma attraverso tutti i vostri, questo è molto interessante perché dice che se la bellezza ti sarà compagna sarai felice. Una delle più grandi gioie del mondo è la bellezza. Si intende per bellezza, non la bellezza fisica, è proprio la bellezza, tutto quello che ci circonda, la bellezza della nostra anima, la bellezza dei luoghi dove stiamo, la bellezza dei sentimenti, di tutto, dell'arte. Ecco, cercala e riconoscila dov'è, cercala ed esaltala dove non c'è. Quindi la bellezza, questo ruolo fondamentale e voi siete, ricordatevi che voi diventerete portatori di bellezza perché questo è il nostro lavoro. Ok? Bene. Allora adesso iniziamo un trucco. Andiamo, ecco, vediamo se riusciamo a vedere un po' tutti. Allora, innanzitutto la prima cosa da fare quando io vado a truccare, adesso, una delle cose più importanti è quella di applicare delle basi. Una base normalmente attraverso i primer, conoscete i primer, no? Il primer è un prodotto che serve sulla pelle prima di applicare il fondotinta per opacizzare e per permettere ai prodotti di aderire di più. Va bene? Ci sono dei primer idratanti, primer opacizzanti, insomma, dipende da quello che si ha. Il primer può essere primer viso, quindi vuol dire che va sulla pelle, può essere un primer occhi che va applicato solo sulla zona perioculare, sia sulla palpebra mobile superiore che sotto la zona delle occhiaie, oppure può essere un primer come questo che può essere utilizzato sia sulla pelle che sulla zona degli occhi. Esistono anche primer delle labbra per la zona delle labbra che sono proprio specifici. Non fanno altro che permettere una durata anche maggiore dei prodotti che andremo ad applicare. I primer, parlare di primer è aprire un mondo, perché ci sono primer come questo, trasparenti, non siliconici, che rendono solo la pelle leggermente più compatta e favoriscono una maggiore adesione del prodotto che io vado a mettere. A volte però magari ho una pelle con i pori tutti dilatati, allora uno dice adesso che faccio? Con un primer normale non ce la fai. Esistono dei primer che servono anche a livellare e a correggere completamente tutta la zona dei pori dilatati. Basta applicarli e tu vedi scomparire i pori. Noi diciamo effetto Blur a effetto Photoshop. È come se tu avete visto quando fate quella pelle finta tutti questi che sono pieni di problemi e tu li vedi al vivo poi si mettono nelle foto sembrano tutte super e invece a parte liftate però con le pelli finte perché si usano quei sistemi ma noi attraverso il trucco possiamo effettivamente con questa tipologia di primer correggere quel problema. Ok e adesso ho applicato un primer che dà solo una maggiore compattezza alla pelle va bene perché ovvio che li uso a seconda del problema. dopo aver applicato il primer applichiamo i correttori epiteliali che sono dei correttori come quelli che vi ho fatto vedere prima che servono vedete dei vari colori che servono per correggere le discromie della pelle ossia i problemi di colore gli inestetismi di colore quindi uso il verde per quello il giallo per quell'altro tutto quello che vi ho detto ora in questo caso lei non è che ha grandi problemi no? allora userò leggermente un po' di aranciato insieme a un po' di bianco sempre normalmente i correttori epiteliali che andrebbero usati sempre prima di applicare il fondotinta quindi sulla pelle andrebbero sempre leggermente scaldati sul dorso della mano in modo tale che sono più malleabili e più guarda in alto vedete più malleabili e più facilmente aderenti ok? allora cosa faccio? io vado innanzitutto in questa zona ok? e vado a coprire questo chiudi se lei vedete che lei ha anche questa zona della palpebra mobile un pochino scura allora io posso applicare un pochino di correttore il correttore epiteliale non è un correttore che si usa a spessore come il correttore normale per le occhiaie quello stick che usate no? quello più ne metti più copre invece il correttore epiteliale no è un correttore cromatico quindi basta un velo e lui ti leva subito l'inestetismo ok? quindi guarda in alto e faccio così riprendo rimischio lo devo modulare un truccatore in genere deve essere in grado di modulare il colore no? noi abbiamo le tavolozze e in un attimo moduliamo il colore e applichiamo vedete quando si lavora in questa zona bisogna sempre fare attenzione a non far lacrimare le persone e quindi bisogna sempre tenere i pennelli in un modo che lei non li veda ok? anche gli occhi più sensibili chiudi non avranno problemi di lacrimazione perché se io vado troppo diretta in pratica cosa succede? che lei vedendo per istinto riflesso inizierà a lacrimare ok? quindi bisogna anche imparare delle tecniche che permettono di lavorare in sicurezza una volta fatto questo applicherò solo il bianco vedete a triangolo sotto l'occhio in questa zona così e poi sfumerò vedi mi creo tutta una zona molto chiara qui eh? così e poi qua lo vedete? è come se io descrivessi guardate lo faccio in modo grossolano così ve lo vedete una zona triangolo sotto l'occhio questo effetto che ora eh voi vedete viene guarda su in alto viene molto esaltato nella fotografia è leggibile nella foto anche se ad occhio nudo dopo che io metto anche il fondotinta quasi sembra scomparire quando voi fate le foto vedrete che apparirà questo effetto bellissimo di chiaro sotto l'occhio ok? perché viene fatto non è casuale no? sempre la famosa casualità ok? e questo è fatto a questo punto applico il fondotinta scelgo un fondotinta giusto per lei adesso penso che sia questo o questo 203 allora il fondotinta come viene scelto? viene scelto normalmente provandolo sul collo qua in questa zona lo applico vedete e il fondo quando è perfetto deve scomparire ok? questo perché? questo ha grandi linee perché poi ci sono dei momenti in cui scuriamo a volte in cui schiariamo però normalmente questo è il metro di paragone il fondotinta può essere c'è il mondo quindi fondotinta possono essere tantissimi a seconda della tipologia di texture del fondo userò degli strumenti diversi ok? allora adesso questo è un fondo semifluido normale ok? molto idratante lo potrò applicare con una beauty blender che sono queste spugne qua più o meno piccola a seconda di quello che mi piace o con una spugnetta triangolo come queste oppure lo potrò applicare con un pennello da fondotinta che vuoi in giro da qualche parte oppure lo potrò applicare con i pennelli ovali vedete che simulano un po' oppure addirittura ci sono delle spugnette anche in lattice in no? non so se ecco questo è un pennello piatto da fondotinta e poi esistono pure delle spugnette in silicone ok? ci sono quelle in lattice e poi pure in silicone ok? comunque io scelgo quello che voglio usare per esempio potrei usare una di queste che viene sempre bagnata le beauty blender allora posso iniziare ad applicare il fondo partendo dal basso partendo dall'alto a seconda di quello che è il metodo di ognuna di noi se voglio coprire di più in pratica con la beauty blender basta tamponare se voglio coprire meno basta tirare ok? la stessa cosa farò sia con il pennello se uso un pennello oppure con le spugnette a triangolo guarda in alto se userò le spugnette quindi dipende molto da ogni truccatore chiudi al suo al suo metodo al suo la sua il suo strumento preferito bisogna sempre fare molta attenzione alla zona intorno al naso per evitare di lasciare magari scoperta quella zona applicare il metodo di applicazione previene tutti gli errori che vuol dire che io evito di lasciare delle zone completamente scoperte che potrebbero pregiudicare il risultato finale perché se poi io per esempio in una zona non metto il fondotinta ci vado sopra con un fard mi viene una macchia ok? quindi applichiamo questo è un fondo molto naturale eh non sto guarda in alto ecco andiamo a velocità così riusciamo a fare la durata del trucco pure quanto può durare il trucco dipende molto dal da quello che devo fare ci sono trucchi che a volte devi fare un quarto d'ora venti minuti e magari complicatissimi no? nello spettacolo chiudi ci sono trucchi come la sposa dove ti puoi prendere pure un'ora e mezza no? perché per far durare tanto un trucco devi applicare il prodotto lentamente e farla aderire perfettamente non devi lasciare nessuna fase cioè devi fare tutto punto per punto perché il trucco possa durare tanto ecco una volta applicato guarda in alto una volta applicato il ecco il fondotinta ora l'ho applicato con questo ma lo potevo applicare con questo c'è uguale si fa una V intorno al lobo vedete e si torna verso il mento questo è per evitare che ci siano stacchi di colore tra la pelle del collo e la pelle normalmente non si dovrebbe andare più giù di questo si va giù nel trucco di ringiovanimento e nel trucco non so magari se voglio fare delle cose cambiare leggermente il suo colorito ecco qua una volta applicato il fondotinta vado a ritoccare leggermente con i correttori o con lo stesso correttore o con un correttore liquido non lo so ognuno fa un po' quello che vuole ritocco leggermente la zona delle occhiaie guarda su magari se ci sono ancora dei piccoli no aloni normalmente questa zona la devo schiarire bene potrò e l'angolo esterno dell'occhio che in genere è sempre un po' pigmentato guarda su questa zona e poi la sfumo così posso usare il dito oppure un pennello guarda su e poi con il correttore vado a ritoccare eventuali imperfezioni a questo punto devo procedere all'applicazione dei chiaroscuri il cosiddetto contouring che si può fare in duemila modi il contouring per esempio si può fare con i prodotti in crema con i matitoni oppure si può fare che c'è bravo ecco vedete scusatemi si può fare con i prodotti in crema come questi ok se si fa con le creme si deve fare in questa fase qua subito dopo aver applicato il fondotinta oppure sia con il matitone sempre la stessa fase se lo faccio con le ciprie invece si fa la fine dopo aver applicato la cipria in polvere ok io in questo caso lo faccio adesso e uso un matitone così ancora più visibile si capisce di più a volte il contouring è correttivo se devo correggere un problema viso troppo quadrato viso tondo e via di seguito altrimenti è decorativo cioè vado ad esaltare i chiaroscuri per esempio lei ha un bellissimo viso non andrei a correggere proprio niente se la guardate allora vado solo ad esaltare alcune zone di ombra e di luce come si fa? applico in questo modo vedete poi lo posso fare più o meno forte lo faccio lì poi lo faccio vedete nella zona del naso ovviamente mi devo mettere frontale per farlo nello stesso vedete si fa questo qui se voglio esagerare posso anche scurire di più e poi vado nella zona zigomatica normalmente per farlo preciso si può fare così come se tu tracciassi una linea immaginaria che parte dalla zona sai quando finisce se vi toccate la zona zigomatica l'inserzione con la mandibola senti come una fossa lì sarà la zona più scura ed è una linea immaginaria che parte dall'orecchio e tocca all'angolo esterno della bocca vedi e se vedete la vedete se lei fa così si forma quell'ombra è lì che dovete andare normalmente non considerate tutte quelle mascherate che vedete sul web quelle cose no proprio effetto maschera noi dobbiamo considerare che stiamo facendo un trucco naturale cioè non una mascherata ok allora normalmente non dovrei arrivare mai oltre vedete la fine dell'occhio ok in modo tale che dopo quella è l'ombra massima poi io ci potrò andare sopra con i fard per esempio allungandomi in avanti però non vado ad esaltare troppo quella zona fatta quella vado anche di qua ok poi posso guardare il viso e decidere se voglio scolpire laterali ma su di lei mi piace così non andrei a fare altre cose ok dovete sempre fare delle valutazioni sul campo con il chiaro normalmente si può schiarire questa zona vedete per esaltarla posso fare questo e questo vedete così senza fare stacchi di colore eccessivo vedete non uso un colore troppo posso esaltare l'arco di cupido sapete che è questa zona no? ecco così e poi posso esaltare la zona zigomatica eh? qui in questa così ok? non andrei esagerare troppo magari solo qua su di lei poi come faccio adesso a livellare un po' no? mica posso mandarla come una patch allora prendo o una beauty blender o un pennello o la spugnetta e decido quello che voglio fare posso prendere questa e faccio così vedete mica posso mandarla troppo scura no? e faccio questo vengo in avanti oppure decido che mi piace di più questo ognuno fa quello che vuole non è che c'è una regola così oppure uso un bel pennello ok ecco questo ve lo sfumo il livello di stacco di colore determinerà la naturalezza del trucco cioè se io lascio troppo stacco di colore tra i chiari e scuri il trucco sarà molto più forte visibile ok quindi è sempre meglio andare a sfumare ok tra il chiaro e lo scuro intendo no? gira leggermente il viso posso fare così o posso usare anche un piccolo un piccolo beauty blender vedete così ok qui faccio questo qui schiarisco prima la zona zigomatica poi mi sfumo questa ecco ok e poi vado di là e faccio uguale ovviamente nulla deve essere troppo visibile una volta fatta tutta questa correzione metto frontale per controllare che tutto sia simmetrico ecco ok adesso devo fissare tutto e si fissa tutto con la cipria in polvere libera naturale cioè vuol dire una cipria che non deve cambiare il colore di quello che io ho fatto faccio un controllino altrimenti truccando di lato non mi accorgo cipria in polvere libera la schiaccio per evitare che ne metta tanta e poi fisso tutto a volte le cipre posso usare pure due colori se voglio esaltare al massimo la zona sotto l'occhio così quindi fisso lasciandomi la zona dell'occhio per ultima sia sopra che sotto una volta fissato a volte se faccio le cose molto naturali da sfilata così neanche fissiamo lasciamo tutto così quando vuoi far vedere la pelle proprio guarda in alto tiriamo via tutto il fondo che eventualmente va a finire nelle pieghe e fissiamo la stessa cosa dobbiamo fare sopra chiudi che sapete che quando mettete il fondotinta quella zona lì si ferma sempre una riga di fondo se non la togliete e non fissate bene quella riga rimarrà sempre vi macchierà pure gli ombretti che andrete a mettere sopra quindi levo quella guarda in alto tolgo bene da qua e poi chiudi e ritolgo da qui e basta una volta fatto in pratica ho fissato tutta la base ok fatto questo da adesso dovrò sempre approggiarmi con il piumino puliamo la zona delle sopracciglia per evitare che ci sia andato fondotinta la cipria no le sopracciglia le lasciamo abbastanza naturali queste vedete lei ha delle sopracciglia molto importanti grandi perché o si modellano depilandole ma questo non è il nostro caso oppure è meglio lasciarle nella moda non depiliamo mai cioè quando voi andate a fare le sfilate le cose mai si toccano le sopracciglia le modelle quello che ti arriva così deve essere lo stilista la scelta proprio perché magari ha delle sopracciglia grandi così non le devi toccare noi non dobbiamo mai toccarle ok adesso in pratica che faccio iniziamo a fare la la sfumatura abbiamo detto che ci ispiriamo agli anni 20 quindi facciamo uno smokey ice però lo rivediamo un po' in chiave più moderna allora mettiamo un chiaro sotto l'arcata sopraccigliare qui in questa zona questo potete esaltarlo pure con le matite chiare e via di sedo ma ora io userò solo ombretti uno ora vado a crearmi solo il punto luce chiaro ok adesso per siccome dovrò usare degli ombretti molto scuri che cosa posso fare posso utilizzare o della cipria sotto qui che mi protegge perché se mi cadono gli ombretti faccio faccio tutte macchie oppure si possono utilizzare anche delle mascherine l'avete visto che io le uso molto delle mascherine e così che si attaccano sotto l'occhio ok quindi le potete mettere così guarda in alto e vi proteggono l'occhio così non state tanto a combattere no perché magari a volte non ti va di mettere la cipria perché se no ti viene troppo forte no così allora potete usare quello usate quello usate che possiamo usare uno e uno eh oppure no tutte e due queste che volete queste queste vi piace eh questo vi piace no perché risolve tanti problemi è uno dei problemi di un truccatore è quello che se ti cade la polvere ti rovina tutto il trucco no guarda in alto eh poi non lo rilasci più a togliere ok allora anche l'uso dell'ombretto potete fare in tanti modi si può usare l'ombretto bagnato lo acquerelli si può usare con una base sotto di matita nera per esempio oppure si può andare diretti con gli ombretti questo sta molto a voi normalmente vi insegno un trucchetto che è eh una cosa che si fa quando devi fare lo smokey ice per andare più veloce per non stare tre ore a capire l'inclinazione della sfumatura una delle cose più difficili agli inizi quando non si ha tanta esperienza è proprio la sfuma cioè la direzione l'inclinazione della sfumatura la mando in su la mando dritta la mando giù la mando così ti fa impazzire a volte no poi per esempio fai tutto il sopra se devi fare pure il sotto una ti rimane staccata dall'altra allora dici ok allora no però la devo unire ti viene così ti viene quella allora c'è un trucchetto per farla sempre perfetta ed è quello che si inizia da sotto ok se io sotto voglio dare molta intensità lo farò anche con la matita perché la matita mi aiuta a dare il massimo dell'intensità lei guarda in alto io tanto già so lo smokey ice che cos'è che comunque lo voglio fare in questo modo vedete quindi vado con una matita proprio attaccata alla rimascigliare bisogna andare molto attaccati perché se non si sta attaccati si forma tra la matita che mettete dentro e quella che mettete fuori e il bianco quindi bisogna stare molto attenti guarda in alto ovviamente all'interno dell'occhio ci vanno solo le matite specifiche non tutte le matite ci possono andare state attenti no? perché si può provocare magari un'allergia una lacrimazione la matita per gli occhi normalmente quella per l'interno si dovrebbe chiamare cagial o col vuol dire che può andare dentro e hanno in genere le matite interno occhi sono state anche testate oftalmotic mi ricordo come si dice a livello oftalmico ok? quindi hanno dei test particolari quindi vedete come faccio io la inizio già e già gli do l'inclinazione così già sto a posto posso andare veloce non devo ritornare indietro troppe volte ovviamente io lo voglio fare guardami anche un po' chiudi adesso sempre con la matita anche se dopo andrò a fare tutto l'occhio mi faccio pure la zona della guarda in basso ok vedete la zona proprio dell'attaccatura delle ciglia no? che comunque quella andrà sempre molto nera no? ecco qua poi chiudi ma io non lascerò quella letta quella mi serve solo per guarda su e faccio la stessa cosa di qua non fate mai quando fate questi trucchi importanti prima un occhio e poi un altro perché vi verranno diversi si dovrebbero fare sempre insieme guarda su quando anche per se trovate le persone che lacrimano molto sempre sempre la matita molto bassa non la fate mai vedere lei guarda là e io faccio questo ok vedete abbasso poco poco poi lei guarda di qua e io faccio questo così ok guarda giù senza chiudere ok poi vado all'attaccatura delle ciglia e mi faccio tutta questa zona se uso le matite queste matite belle molto morbide così in pratica avrò una bella intensità ok a questo punto la matita la devo sfumare userò prima un pennello molto attaccato lì e poi dopo incomincerò a mettere ombretti quindi mi preparo un po' di pennelli questo questo e questo questo no questo no ok adesso lei guarda in alto e io inizierò a sfumare vedete questo è un trucchetto proprio per andare veloci io già so che andrò qui chiudi ecco questa è la sfumatura inizierò a sfumare verso l'alto in questo modo così finché la matita si sfuma poi devo decidere che forma dare a questa sfumatura perché potrò dare una forma spigolosa alla fine arrotondata quello dipenderà molto un po' dal nostro gusto e dallo stile che ogni truccatore ha apri in genere ecco qui sfumiamo molto chiudi e gli diamo una sfumatura un po' più arrotondata ecco così e poi inizierò ora a mettere gli ombretti metto un po' in alto ecco all'inizio il primo appoggio viene fatto ed è quello più intenso e poi piano piano inizio a sfumare diciamo che se applico una tecnica particolare con il pennello riesco anche a non far cadere neanche una polvere un granello di polvere dal pennello è una cosa che si impara con il tempo perché se uso un appoggio che noi diciamo a 45 gradi del pennello non cade la polvere spesso cade molta polvere o se gli ombretti sono scadenti oppure se non so usare il pennello ok se lo uso per così quello parte tutto l'ombretto se io invece faccio questo movimento finché il pennello è pieno di ombretto allora non cadrà ecco gli voglio dare un po' questa forma fino all'attaccatura delle ciglia è divertente no? apri chiudi ecco ok la stessa cosa farò di là guarda su prima inizio dal basso vi ricordate no? quindi inizio a sfumare questo chiudi poi inizio a fare così poi devo fare le sfumature uguali dopo eh poi inizio a sfumare veloce vedete che se uso questa tecnica in pratica vado molto più veloce che mettere l'ombretto ci puoi stare pure mezz'ora a fare questa sfumatura eh eh ci si sta pure mezz'ora se non usi la tecnica corretta ecco qui adesso la dovrò guardare per dargli la stessa forma prima la sfumo ecco qua vediamo ovviamente la devo guardare da davanti e poi gli inizio a dare questa forma poi questa forma di sfumatura è ritornata anche negli anni sessanta non solo ehm tipo se pensate a Mina no? Patti Bravo no? avevano questa forma un po' a goccia che scendeva giù così si rifaceva al trucco degli anni venti poi talmente era forte dopo in quell'epoca che alla fine hanno iniziato a togliere pure le sopracciglia per enfatizzare al massimo questa forma se avete visto io in una delle modelle ho fatto questa forma e le sopracciglia le ho cancellate non so se l'avete vista quella dopo ve la rifaccio vedere si ho preso l'ombretto e adesso lo sto applicando così gli do sempre questa forma un po' no? a goccia guarda in alto ci ha così devo cercare di fare le due sfumature uguali ecco poi 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 così di togliere risfumo bene qui ispirandomi gli anni venti sotto sto un po' esagerando no? perché su adesso glielo levo questo guarda su adesso posso lasciare nero nero così lì ecco oppure guardami su sfumare oppure posso aggiungere adesso anche ecco guardami ok scusate ok ok allora ora potrei aggiungere un ombretto un punto luce sovrapposto però eh cioè vuol dire sopra al centro chiudi tipo potrei farlo qua vedete in questa zona quando il punto luce non troppo presente come prima così poi metto un eyeliner guarda in basso anche per mettere l'eyeliner c'è una tecnica ok scusate che non parlo perché quando si mette l'eyeliner si va in apnea si deve andare in apnea per far sì che il tratto venga ben definito allora adesso mettiamo un velo di mascara dove sta eccolo ok guarda in basso su il mento allora anche il mascara va applicato per piegare le ciglia in un certo modo nulla è casuale maschera lo posso mettere sopra e sotto oppure solo sopra sono sempre scelte nella moda non è che esiste una posso anche scegliere di non metterla su non esiste regola anzi noi lavoriamo con l'abbattimento delle regole su ok passa la bocca lo faccio asciugare un po' dopo lo ripasso guarda su e magari ok lo ripasso e e dopo applichiamo mettiamo le ciglia ok rossetto voglio fare una bocca abbastanza scura ok quindi metterò un rossetto scuro però faremo opaca ok quindi vi faccio vedere l'uso delle tinte allora matita si parte sempre per non fare la bocca storta dal centro dall'arco di cupido quindi mi devo mettere frontale vedete appoggiare questo e poi normalmente quando si usano i rossetti scuri si tende sempre ad ingrandire un po' la bocca perché lo scuro tende a rimpiccolire quindi farò questo anche la bocca per farla dritta devo andare in apnea poi ricontrollare da avanti se no mi viene sempre storta ecco ok fatto questo vediamo l'applicazione di una tinta tinta sono i cosiddetti rossetti in questo caso matt abbiamo detto allora si può applicare diretta oppure si può applicare usando un pennello ok sta a voi normalmente per igiene dovrebbe sempre essere quando lo mettete sulle vostre labbra e le vostre lo fate con questo però noi usiamo i prodotti sugli altri va sempre applicata con un pennello così ok allora il fatto di applicare prima una matita in pratica mi facilita perché riesco ad evitare di uscire fuori dal suo disegno poi le tinte avendo una colorazione immediata se vai fuori non lo togli più ok quindi bisogna fare meglio lavorare in sicurezza piuttosto che andare a correggere ok ok Ok, andiamo a applicare questo lato di qua. Parlo poco perché quando faccio questo, se parlo vado storto. Ok. Ecco lato. Ok, in pratica questi sono un po' i colori, l'allure di quel momento. La cosa divertente magari potrebbe essere, guardando lei, anche pettinare un po' le sopracciglia, magari un po' spettinarle così. Ok, poi andiamo ad applicare il fard. Pennelli da fard, eccoli. Questo e questo. Un bel fard. Potremmo metterlo un po' rosato. Sorridi. Così. Vedete, si fa il sorriso. Così. Sorridi. C'era il viso. Sapete che per applicare il fard si usano due o tre tecniche, esattamente sono quattro. Sono il fard in diagonale, che è il fard che scava lo zigomo. Il fard che scava lo zigomo, ed è questo. Il fard è un orizzontale alto, si mette sul viso tondo, quell'altro è un orizzontale basso sul viso lungo, e il fard a dare luce sarebbe questo. Si fa sorridere, così, e si applica il fard. Va bene? Poi, ora passiamo agli illuminanti. Quindi, sapete, gli illuminanti possono essere i stick, cose. Noi usiamo gli illuminanti questi in cipria compatta. Ci sei riuscita? Grazie. Perché ha una piccola puntina, guarda su, con il mascara. Guarda su, ma non è caduto proprio niente. Ok, illuminanti. Gli illuminanti sono vari. Non esiste l'illuminante uno che va bene per tutti. Ci sono quelli color carne, quelli un po' dorati, quelli rosati, quelli argentati. Dipende dall'effetto che noi vogliamo ottenere, ma anche dall'incarnato. Ok. In questo caso su di lei userei un neutro. Allora iniziamo dalla zona zigomatica. Dovete essere molto leggeri. È meglio riaggiungere piuttosto che togliere se ne avete messo troppo. Perché dopo non si toglie più bene. Quindi, vedete, lo applico e leggera vado sopra, così. E decido dove applicarlo, se tutta la zona del fardo o solo lo zigomo. Poi lo applico nella zona che avevamo già esaltato con i chiari, vedete, per dare maggiore risalto. E poi magari mi piace anche qua, in questa zona, che dà proprio la sensazione della solarizzazione, un effetto fotografico. Poi lo applico anche un po' qua. Se voglio esaltare di più la zona, quella intorno dell'arco di cupido, devo prendere un pennellino. E poi fare qua, così. E poi magari qui. Ok? Quella zona. Poi più o meno questa è fatta. Se voglio, posso esaltare anche la zona sotto l'arcata sopraccigliare. Se mi va, questa zona qua. Così. Ok. Sì. E poi rivado a controllare sempre, obbligatoriamente, se tutto è ok. Chiudi. Qua. Vi vado a guardare. Magari riesalto la zona. Qui. E posso lasciare tutto l'occhio nero così. Oppure mi potrei divertire anche usando questo pennello. Così. Magari mettendo un po' di bordeaux. Qua. Per dare un po' di riflesso. In questa zona. Perché il bordeaux, pensate che lo usavano. In questa zona qua. Si usava il bordeaux, il nero, il marrone molto scuro. Ecco. Direi che basta. Potrei mettere le ciglia finte, se volete le metto. Altrimenti basta così. Vi piace? Questo è un trucco rivisto degli anni venti. Ok. Rivisitato in chiave moderna. Però che è abbastanza contestuale. Cioè che è molto inerente proprio a quell'epoca lì. Grazie. Va bene? Grazie. Grazie. Vediamo. Ovviamente è stupenda. Lei era già bellissima. Bella. Sì, sì, sì. Quindi ha avuto terreno facile, diciamo così. Però effettivamente, insomma, la trasformazione, questa è una delle tecniche che abbiamo presentato oggi. Quindi noi comunque vi terremo aggiornate tramite l'email e il numero di telefono che abbiamo preso. Se mai, insomma, vi farà piacere partecipare alla prossima lezione del corso di Alessandra Barlam. Naturalmente, per quanto riguarda la SGE Form, potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, Twitter e sul nostro sito. Continuamente e costantemente aggiornato per, insomma, seguire tutte quelle che sono le nostre iniziative e le nostre attività. Vi ringraziamo davvero per essere state con noi fino ad oggi, per chi è venuto stamattina. E ovviamente un ringraziamento va sia ai titolari che costantemente, insomma, ci danno queste opportunità di vivere esperienze differenti, anche, diciamo, formative. E ovviamente a tutti i docenti presenti da questa mattina. Grazie davvero, perché, insomma, voi siete la SGE Form. Grazie a Tilio Rizzo per le riprese, grazie a Enzo per le fotografie che vedremo sulla pagina Facebook. Insomma, grazie a tutti quanti e al prossimo appuntamento. Grazie. Ciao.